Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria, torna domenica 8 maggio il mercatino dei ragazzi del Calcit in zona Eden. Quest'anno riprendiamo il percorso usuale via Spinello, via Nicolaretino e via Guadagnoli, solo da una parte, questo comunque per mantenere ancora un po' di prudenza, però con tutto il percorso bello come gli anni precedenti e comunque con un buon numero di partecipanti. Saranno circa un pochino la metà degli anni precedenti, sicché comunque ci saranno 200-250 banchi, in più ci sarà comunque la presenza anche dei macellai dell'ASCOM, poi ci sarà la pesca gigante del Calcit e tante altre cose. Ci sarà anche il gazebo del progetto Mani e Cuore, insomma abbiamo cercato di mettere dentro più cose attinenti ovviamente. Sempre domenica 8 maggio ci sarà anche la prima edizione della rassegna delle bande musicali con ritrovo e partenza da Piazza Grande. Saranno in tutto sette bande, ogni banda circa 25-30 persone, con un percorso che partirà da Piazza Grande, dove terranno un concerto, poi si snoderà a Percorsi Italia, Piazza Saiacopo e poi entreremo nel percorso del mercatino fino a Via Guadagnoli. L'incasso di questo mercatino lo destineremo al servizio scudo, assistenza domiciliare per malati oncologici e malati ad alta complessità. Mentre l'incasso che faremo per il progetto Mani e Cuore lo abbiamo già deciso all'ambulatorio della chirurgia del seno, che abbiamo già dotato di un ecografo e sistemato l'ambulatorio. Grazie.